Salve a tutti sono Zombievest e sono qui con per fare questo dodicesimo episodio di Zombie 6 questa volta a grande richiesta siamo su Playstation 3 qui con me ci sono come sempre loro alcuni appunto iscritti che si sono resi disponibili per partecipare a questo episodio salutate bene allora come potete vedere abbiamo lo schermo condiviso io sono quello sopra e Tom è quello sotto col cecchino mi darà una mano ad ucciderli uno ad uno insomma oppure a farsi le feed a farsi le feed iniziamo col solito test di sincronizzazione Zombie dice abbassatevi beh non ho specificato il modo qualcuno che si è abbassato un po' troppo esatto io boh sbaglio sempre tasto ok ve la do buona va bene Zombie dice alzatevi perfetto l'audio funziona sicuramente quindi iniziamo un po' con le cose classiche Zombie dice saltate una volta Zombie dice guardate in aria no lui ha ritardo no Alessandro x98 perchè hai saltato due volte eh scusa ho sbagliato non sbagliare mai più Zombie dice sparate un colpo Michelle quanti colpi hai sparato uno Michelle quanti colpi hai sparato sii sincero ti uccido sincerissimo ti mando la foto adesso se vuoi sul profilo di Tom però perchè non ti ho va bene dai ok Zombie dice seguitemi sono molto buono oggi oggi mi sento molto buono ma al prossimo lo sego esatto ma al prossimo lo sego vi avverto quindi niente più cazzate se no vi sego adesso mettiamoci in un posto un po' più centrale della mappa in modo da far fare il lavoro al cecchino mettetemi in fila qui uno di fianco all'altro fate una fila qui alcuni di voi potrebbero essere coperti ma voi non potete conoscere la vera posizione del cecchino invece è scontata l'ho vinto prima ma vabbè è scontata ok perfetto si inizia con il test di solito insomma il primo che sbaglia verrà ucciso perchè deve esserci qualcuno che prima o poi sbaglia quindi mettetemi in modo ordinato Cristo Dio il primo che trovo ma perché fate mettetevi uno a fianco all'altro per favore ok perfetto zombie dice abbassatevi zombie dice alzatevi abbassatevi privacy bistecca è stata un'ottima cecchinata quella di tom mi ha risparmiato quello dietro mi dispiace veramente doverlo fare ma sei morto bene il cecchino vede tutto esattamente io in realtà ne ho visto forse anche un altro che si è abbassato ma potrebbe esserci ma questa volta c'è sfuggito c'è sfuggito diciamolo io non l'ho visto bene zombie dice abbassatevi zombie dice no non mi fa la levetta non mi fa la levetta no io non posso agire da qui non mi fa la levetta zombie dice guardate il vostro partner in faccia ciao 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 ti ha fottuto eh tu sei rimasto solo amico che ne dici se vai con tom lassù dove eri prima visto che sei quello di prima esatto vai con tom vai con tom vai vai lassù con tom vai da tom vai da tom da tom laggiù laggiù stolto stolto laggiù c'è tom c'è tom c'è tom vabbè allora non andare da tom io non volevi venire da me perché ti sei evitato tom perché povero tom seguitemi dai non ci riesco male poi non la 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 nessuno che mi vuole mi dispiace dovremmi segare uno dopo l'altro io avevo detto cioè ho fatto la finta sono stato ehi fatto la finta ancora bene zombie dice seguitemi cambiamo di nuovo posizione questa mappa non c'è niente di particolare da potervi far fare nessun container che si muove niente di di particolarmente interessante chi ha coltellato io no chi cazzo però qui c'è il mare oh yeah qua qualcuno potrebbe per sbaglio cadere in mare così a random allora una alla volta vediamo se riusciamo a se qualcuno riesce a rimanere in vita mettetevi tutti in questo punto qui per favore dove sono io adesso bene bene vediamo se viene quello che penso allora adesso una alla volta magari fate una fila venite qui dove sono io saltate vi lanciate a dolphin dive e chi non cade rimane in vita quindi buona fortuna il salto dovete farlo tipo da questa linea qua ho sbagliato tipo da questa linea qua e vediamo chi di voi non muore quindi proviamo il primo chi vuole testare bravo ottimo coraggioso un po' di rincorsa attento sopravvissuto ok forse ci si sopravvive provo io ok zombie 6 devo segarti allora facciamolo da qui il prossimo aumentiamo via via il limite bene bene il prossimo il prossimo però lo fa da un pochettino più avanti ci sarà qualcuno che prima o poi e il prossimo eccolo qui vai tocca a te tocca a te è partito il colpo attorno è partito il colpo mi dispiace zombie dice seguitemi che è partito il colpo non volevo adesso lascio comandare un po' Tom è un po' il tuo turno Tom torniamo al punto iniziale di nuovo su quel muretto di all'inizio sempre lì e questa volta toccherà a Tom vai Tom ehi 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 è partito per sbaglio è partito per sbaglio dai può succedere non so cosa fargli fare consigliami consiglia questa mappa è un po' una merda per fargli fare le robe è un po' una merda per fargli fare le robe quindi io consiglierei di devastarli piano piano allora un bel nascondino un bel nascondino ci propongono allora ok facciamo fermi fermi allora Tom stai qui a controllarmi un secondo il primo che si muove lo si mi scelti stai guardando togli il mio perché così te ne scappa uno potrebbe scappare un colpo va bene grazie no 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 stavo scherzando ok adesso io tra poco tornerò e quando tornerò Tom farà la stessa cosa io vi controllerò potrete capire facilmente cosa stiamo facendo resta a voi insomma non caderci vai Tom dureranno quanti quanti siete io vi conto intanto ok perfetto allora continuiamo zombie dice abbassatevi guardate il vostro partner in faccia infatti appunto voi due perché avete guardato vi siete guardati in faccia a vicenda tu white devaster per favore zombie dice spostati da lì tirati via bravo voi due otis e tu cioè potis otis zombie dice mettetevi qui bene zombie dice guardatemi in faccia zombie dice sparate lo sapevo no qualcuno bravo guggio puoi tornare nel gruppo hai fatto allora torna bene ok zombie dice state immobili il primo che si muove potrebbe venire ucciso io mi nasconderò voi dovrete dovrete trovarmi quindi un attimo ok un secondo voi dovrete semplicemente trovarmi sarà semplice quindi zombie dice via trovatemi mamma mia qualcuno non è morto io ho paura io ho paura io ho paura rindo toma è eliminato qua no non penso ok a girare così a vado per la baffa e ti puoi dire qualcosa dai trovatemi su è facile trovarmi nessuno mi trova io vedo la gente io vedo la gente passarmi davanti io vedo la gente passarmi davanti di nuovo uno di voi mi ha trovato forza chi sarà il secondo che mi trova il secondo fortunato che mi troverà bravo tu stai nascosto con me bravo ok perfetto mi hanno trovato in tre ottimo voi tre zombie dice state fermi qui andrete in finale bene ora cercate il tomitman95 chi lo trova gli spari in testa vi autorizza sparargli in testa avanti sparati in testa su 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 C'è più che fare questo Io non so cos'altro fare Dai dovete segare Tom Cosa aspettate? Oh niente vi do altri dieci secondi per trovare Tom dopodiché niente dopodiché seguo questo qua però perché scusate non è possibile 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Non riesco a mirarlo Ok perfetto Maledetto la tua scossa Niente non avete scoperto Tom Chi è rimasto? Chi è rimasto? Prevocate l'ordine di spararmi Io vi seguo tutti Bene allora chiunque sia rimasto venite di nuovo al punto dove c'eravamo trovati all'inizio per favore Tutti qui tre Zombie 6 dice Zombie dice venite Quei tre che hanno vinto si mettono nell'angolo opposto questa volta perché loro resteranno lì per la finale appunto Ok perfetto Michelle c'è White Chi è stava? White Va bene No C'è sia Devaster che Deadpool Ce ne sono due Tutti bianchi Dai tornate Tornate dove c'eravamo trovato all'inizio Oh porca troia Scusa scusa Sono stato io Sono stato io Sono stato io Scusa No ho sparato un colpo in aria te lo giuro Cioè non l'ho fatta apposta Non la devo guardare A quanto pare manca gente Vediamo chi dobbiamo andare a uccidere Qualcuno non ha capito Adesso vediamo chi si becca al mio primo tercesto Oh mi dispiace voi dovevate andare in finale ma se non mi ascoltate Se non mi ascoltate io non posso portarvi in finale Allora niente La gente non mi ascolta Siete rimasti quindi in tre I tre finalisti convinti Scappate a caso per un punto della mappa Su via Fuggite Stolti Dieci Nove Otto Sette Sei Colpo non efficace Fuggite Fuggite Colpi fulminanti Allora facciamo fare un po' di 360 a Tom Fatta facciamogli fare un po' di 360 Allora Oh cosa Troviamoci Troviamoci Dalla rampa Dalla rampa al centro della mappa Tom vi farà il 360 dalla finestra Sì Dai è un lavoro impossibile Lo sai benissimo Avanti Avanti Io sono più che dispassente Voglio provarmi Allora mettiti pronto sulla finestra Ovviamente devi saltare fuori e fare il 360 Sì Mettiti sul bordo magari Non puoi saltare sul bordo Bravo Allora mettiti Cazzo vi nascondete Qua Qua Bravi Bravi Un a fianco all'altro No 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 Tu indietro Bravo Michel Bravo Mi allontano Non te la farò mai Vai Non te la farò mai Hai tutti i tentativi Perché Hai Passato ascolto la città la città la città a tutto pure il nostro solo tv anche io non furgone però cristo sono gli ultimi trecchi io potrei fare anche così no no li segui spostatevi scappate non vi dice via 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 allora siete idioti non vi dice non vi dice chi è chi è avete avete il secreto oh ma ma siete stolti cristo c'è che dirvi di spostarvi in tutti i modi ci c'era il traboghetto sotto ma no cristo stava esplodendo che belli occhi che hai che bella persona perchè ma come hai fatto come hai fatto come hai fatto cristo come cazzo hai fatto a questo punto no 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 una sfida tra michelle e tom scappa 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 ammazzatevi tra di voi michelle al tom all executioner il cecchino michelle e oltretutto tom è avvantaggiato perché vede michelle dallo schermo condiviso questo michelle sei fottuto perca putt**o E' bello avere lo schermo dove si vede Dove è l'avversario Guardalo che ti capa il bastardo Notare il mio emblema Signori notare il mio emblema E niente Oh che quick scoop ti ho spazzato via Questo era il dodicesimo episodio di Zombie 6 su meltdown La prossima volta faremo una mappa con un po' più di Di cazzate in mezzo Quindi la faremo adesso noi Niente grazie di aver guardato questo video Ci risentiamo Ci risentiamo Al prossimo Ci risentiamo al prossimo episodio Da zombie best è tutto Tomitman95 vi saluta Ciao Non voi stolti Ciao 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 Ciao